In questo video vedrai che la Juventus ha firmato un contratto ufficiale con un giovane talento nato a Savigliano. Premi il pulsante mi piace e iscriviti per aiutare a diffondere questo contenuto a più tifosi juventini. Il giovane di 18 anni, Adam Buffandar, ha firmato un contratto con la Juventus il 4 novembre. Questo è il primo contratto professionale del giocatore, che durerà fino a giugno 2026. Adam Buffandar è nato in Italia, ma preferisce giocare per la nazionale marocchina. È un centrocampista difensivo. Adam ha già giocato con grandi promesse come Yildiz, Bangula e Uidzen, e potrebbe essere il prossimo ad arrivare in prima squadra con la Juventus.